Io penso che la Juve come squadra sia una squadra che ha tutte le carte in regola per continuare a ritornare a vincere in campionato, perché poi alla fine l'anno scorso si parla tanto di delusione, però abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa, ci siamo qualificati in Champions League, per cui non mi sembra sia stata proprio un'annata deludente, però chiaramente le aspettative quando sei in Juve e rappresenti la Juve sono sempre totali e sono sempre di massimo livello e quindi quello che verrà richiesto al mister sarà proprio di rivincere il campionato e io credo che nessuno come il mister in questo momento conosca e sappia di cosa ha bisogno l'ambiente Juve e la Juve come squadra per tornare a primeggiare. Giorgio e Leo non sono delle sorprese, Giorgio e Leo sono dei capi saldi, sono dei punti di riferimento perché alla fine ogni nazionale secondo me che si rispetti e che vince ha per forza sempre comunque bisogno dell'esperienza e della certezza e della solidità che alcuni giocatori ti possono dare e in più credo che in mezzo a questo le grandi sorprese, dando per scontato non so che Verratti per me è un campione, che Giorginio sta dimostrando di essere un giocatore veramente di altissimo livello, penso che le due sorprese più grandi quindi per me in quanto a quello che hanno dimostrato sul campo sono state chiesa sicuramente e poi Gigione Donnarumma.